La Lega sono io perché ormai destra e sinistra sono la stessa cosa. Entrambi fanno gli interessi della Merkel e della Germania. Io sono contro questa Europa che ha distrutto 50 anni di conquiste economiche e sociali. Io sono per l'Europa dei popoli e non delle banche e dell'euro. C'è un'unica soluzione per ridare speranza e lavoro. Fuori dall'euro. Subito. La Lega sono io. Basta euro. Grazie a tutti.